Aldo Durante, il distretto è un territorio che ha una specificità produttiva, nel caso di Montebelluna la scarpa sportiva, per tanti anni, per tanti secoli noi abbiamo fatto scarpe da lavoro, quindi scarpe che venivano usate in condizioni oggi abbiamo, usiamo dire, estreme, certo difficili, quando alla fine dell'Ottocento i primi cittadini che volevano uscire da ambienti che cominciavano ad essere inquinati hanno cominciato a frequentare la montagna non per tagliare il fieno ma per prendere l'aria buona, Montebelluna accoglie questa opportunità, cioè le scarpe da lavoro diventano scarponi per la montagna, pensiamo non so, la montagna una volta si andava con le scarpe che si aveva addosso, adesso c'è il trekking, il trekking leggero, il trekking a metà quota, c'è l'alta quota, c'è per il ghiacciaio, c'è il free climbing, uno deve andare via con una macchina di scarpe per poter praticare lo sport. I migliori clienti non solo sono gli sportivi, ma quelli che vogliono sentirsi sportivi, il turista che attrezzato di tutto punto con il suo macchinone va dal parcheggio al ristorante, ecco diciamo che è un buon praticante di trekking e che quindi deve essere attrezzato all'uopo, come si dice. Sempre per lo scarpone da sci la grande innovazione è stata la plastica, la plastica fino agli anni 60 e poi agli anni 70 ha segnato l'ingresso di Montebelluna nella società industriale, è sbarcato Henry Ford a Montebelluna, è arrivato dalla catena di montaggio, è arrivato il lavoro in serie, perché? Perché fino agli anni 50 e 60 anche gli scarponi da sci più tecnici erano fatti a mano, la nordica che era la leader già allora, mi diceva Franco Baccari, faceva a mano i suoi scarponi più importanti, con la plastica cambia tutto, cambia la materia prima, è la plastica, cambia il modo di lavorare, cioè macchina iniezione. Nel 79 il 75% degli scarponi da sci del mondo erano fabbricati in un fazzoletto di terra di 15 km di raggio. Oggi Montebelluna produce circa 40 milioni di paia di scarpe, produce tra virgolette perché con la delocalizzazione, l'ideazione, la messa a punto dei prototipi è a Montebelluna, in piccola parte le scarpe top sono ancora fabbricate a Montebelluna, poi le grandi quantità hanno preso il volo per i paesi dell'est Europa, anche se c'è un errore secondo me da evitare ed è il pensare che qui rimane il cervello e le mani sono dall'altra parte. In realtà, io lo scrivo da tanti anni, anche le mani sono intelligenti, ma se uno ha perso le mani ha perso anche il cervello. Lo sport è un'attività nella quale si praticano dei movimenti in forma estrema, grandi sollecitazioni, temperature, uso di materiali. Ora, poi queste scoperte testate nello sport con intelligenza possono essere trasferite nelle scarpe di tutti i giorni, come credo le scoperte, le innovazioni della Ferrari possono essere poi inserite nella nostra macchinetta di tutti i giorni. Esistono concentrazioni di produzione di scarpe sportive, che so, da tennis, da calcio, in certi siti, ma non credo che esista un sito al mondo in cui vi è una pluralità di calzature sportive a livello mondiale. Qui abbiamo la scarpa da montagna, lo scarpone da sci, le scarpe per tutte le scarpe tecniche e gli sport tecnici, tutti in un'area di pochi chilometri quadrati. Quindi una delle forme oggi di dialogo tra le nazioni è più lo sport che la politica, addirittura della cultura, perché nella cultura c'è la lingua diversa, la mia lingua vale più della tua. Qua noi vediamo adesso che in Africa il paesetto più povero dell'Africa si confronta con i paesi più ricchi giocando a calcio, le stesse regole, la stessa pallina, con milioni di persone che si entusiasmano o si deprimono. Grazie a tutti. Grazie a tutti.